E vai, oggi si inaugura... Cos'era, amore? Il melogranino nella bocca di lupo. Nella bocca di lupo. E dagli, testa di lupo! Ragazzi, bocca di lupo per me. E vabbè, per lei è bocca di lupo. Davanti al camino, perché il tempo è uggioso. Ok, si stappa. Si stappa. L'hai agitato un po'? Sì, lo riagito ancora. Scusate se è in ginocchio, non mi sta facendo proposte né niente. Magari. Ragazzi, io chiedo sempre a voi di convincerlo. La mano è qua, manca un anello. Ma non sente. Devo versare che non devo sbagliare a mettere gocce di più da una parte o da l'altra. Sì, perché io lo controllo. Scusate, io ho il mio scraniotto. I due che mangiano. E via. Aspettate che mi sento anche un attimo. E con il melogranino. Alla vostra. Alla vostra. Mi ha detto, prendi il telefono, gira verso il camino e gira a me. Così mi si vede anche a me. Ecco di qui. Ci sono anch'io. Buona serata a tutti. Vedi. Assaggiamo. Assaggia. Profumo buono. Com'è? Buono. Buono. Non è dolce, ragazzi. Pensavo fosse dolce, invece ha maturato bene. Ok. Va bene. Saluta inquadrando ancora i bicchieri. E la testa di lupo. Bocca di lupo. Vai. Testa di lupo. Non si vede mai. In controllo. Se vabbè. Comunque. Alla prossima. Ciao ciao. 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 Ciao.